Quindi abbiamo detto aspettiamo Lillali, aspettiamo Lillali, è arrivato al 98esimo con una perla che va messa all'incrocio Veramente un gol bellissimo, questo è un gran giocatore Eh sì, un gran giocatore di una partita interminabile perché doveva chiudersi al 95esimo, siamo al 98esimo e lì trova il gol E Lillali, male Napoli che gli concede spazio